Ragazzi, la gente è completamente impazzita. Leggevo dei commenti sotto l'ultimo video di gente che mi scriveva, un paio, che poi ho bloccato immediatamente, che mi diceva no, Malambre, devi solo aiutare le famiglie italiane. Scusa, ma secondo te, io quando aiuto delle famiglie mi devo certificare che siano italiane doc. Cioè, quindi se, per esempio, non lo so, una famiglia in difficoltà, magari di tre persone, che il marito ha sposato, che ne so, una romena, una bielorussa, quindi non le aiuto perché non sono italiani doc, perché la moglie magari è di origine di quel paese, magari non aiuto, che ne so, una famiglia che magari da vent'anni qui in Italia e hanno il passaporto italiano perché magari sono originari, che ne so, di un altro paese. Cioè, secondo te, io prima di dare un aiuto devo certificarmi che questa persona da generazioni, ma siete impazziti completamente? Io non ho mai guardato in faccia a nessuno quando ho dovuto e do una mano. In questi due anni ho aiutato gente che è qui al nord e che è originaria dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, di Napoli, famiglie che magari sono anche miste, nel senso magari... Ma, cioè, non mi farei nessun problema se devo anche aiutare una famiglia che magari qui è in difficoltà di un altro che non è originario. Cioè, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che commenti sono? Cioè, ma come vi permettete voi a me di farmi dei commenti del genere? Cioè, no, perché io devo... Cioè, ma come si fa a fare una cosa del genere? Siamo veramente all'assurdità. Iniziate voi, voi, voi. Io ieri sono stato in giro fino tardi a portare un po' di aiuti. Fatelo voi, fatelo voi. Vi scegliete quelli doc e fate voi, visto che fate voi. Cioè, secondo te, non lo so, io sono bergamasco e devo aiutare solo i bergamaschi. Quindi magari quello, non so, è calabrese, non l'aiuto. Cioè, oppure devo aiutare in base al discorso politico. Cioè, prima di aiutarlo, se uno non è affine, che ne so, alla mia ideologia politica, non l'aiuto. Perché magari quello vota un altro partito, la pensa... Ragazzi, ma guarda che io quando faccio queste cose non chiedo nulla. Non chiedo chi votano, chi fanno. Cioè, li so perché magari sono persone che ho aiutato e so che sono di lì perché me lo dicono loro. Nel senso che magari non è che mi limito giusto e magari facciamo due balle e so che magari sono originari di lì. Ma non è perché... A me non me ne frega un cavolo. Se uno arriva da Roma, da Napoli... Cioè, ragazzi, ma questo qui... La gente è impazzita. Ma voi cosa vi passa nel cervello? Cosa vi passa? Non lo so, nel cervello. Cioè, ci sono delle situazioni di famiglie, di bambini che, poveri Cristi, non ci hanno ancora da mangiare. Che magari devo stare lì a certificarmi che... Ma ragazzi, ma voi siete impazziti totalmente. Alcuni sono proprio impazziti. Cioè, è gente che proprio non sta bene con la propria coscienza. Quando si cerca di fare qualcosa, lo si fa col cuore e basta. Poi, ripeto, ultimamente io sono... Un periodo lungo che sto facendo questo. E non ho neanche voglia ogni volta di stare lì a fare video, eccetera, eccetera. Capita che lo faccio semplicemente perché sono un personaggio pubblico e quindi spero che questa situazione venga emulata semplicemente per quello. In modo tale che tanti trovano spunto per fare quello che magari sto facendo io. Semplicemente per quello. Semplicemente per quello. Quindi, magari nel nostro piccolo c'è uno, ah però, cavolo, che bella, che bella idea. Magari uno che, che ne so, sta in Toscana, conosce un paio di persone che sono in difficoltà e magari gli porta un po' di pasta, gli fa un po' la spesa, eccetera, eccetera. Semplicemente per quello. Il bene. Il bene. Noi siamo arrivati a un punto che abbiamo vergogna di far vedere il bene. Il male va bene. Accendi la televisione, ascolti la radio. Solo notizie negative. Vivono sulla negatività. Se non ci fosse quello non saprebbero più che dire. Guardate un telegiornale. Guardate, ho detto, io non guardo, però mi immagino. Cioè, guardate un telegiornale, sono solo notizie negative. Io ogni tanto guardo il telegiornale russo e la maggior parte delle situazioni magari fanno vedere anche cose belle. Cioè, abbiamo, cioè, da noi solo negatività. Siamo arrivati a un punto che bisogna avere vergogna di fare del bene. Ma questo mondo è impazzito, ragazzi. Questo mondo è impazzito. Cioè, questo mondo è impazzito completamente. Noi non dobbiamo avere vergogna. Dobbiamo avere vergogna di quelli che fanno il male. Quindi, da questo punto di vista, io dico, la solidarietà si fa non guardando in faccia da dove uno arriva. Se arriva da quella regione, a me non me ne frega niente. Mio padre, gli hanno sempre voluto bene. Sono arrivati persone a trovarlo fino a quando, poco prima che moriva, anche quando aveva 70, 75 anni. Gente che aveva aiutato 30, 35, 40 anni prima, quando allora arrivavano dal sud Italia. Mio padre ha sempre dato una mano a queste persone. Le ha sempre aiutate. Anche per trovare un lavoro, per trovare un posto dove stare, anche col cibo. Le ha sempre aiutate. Hai capito? Arrivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. Le ha sempre aiutate. E queste persone, mi ricordo, venivano a trovare mio padre, che più o meno avevano la sua età, e ogni volta diceva, papà, ma chi sono questi? No, questo qui lo conosco perché è arrivato su, gli ho dato una mano e gli volevano un bene dell'anima. E mio padre non è che stava lì in un momento in cui allora c'era molta divisione. Quindi, da questo punto di vista, a me non mi venite a fare morali. È quello, è quello. Io non guardo in faccia a nessuno, capito? Se uno gli devo dare una mano, gli do una mano, punto e basta. Che sia italiano, che magari sia straniero, che in Italia, non me ne frega niente. Hai capito? Ok? Così come, se devo, non è che mi faccio segmentare, no, però prima devo aiutare quello, dopo l'aiuto il dombo. Ma ragazzi, ma non è così che funziona il mondo. Ma cerchiamo, 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 continuo a dirvelo. Toglietevi sta cattiviria che ci avete nell'anima. Cercate di essere un po' più buoni, che nella vita. Siamo qui di passaggio. Siamo qui di passaggio. Quello che voglio dire. Niente, grazie a Davide che vedo sempre che mi segue, mi sostiene. Ringrazio poi tutti gli altri e compagnia varia. Sotto metto un IBAN se qualcuno mi vuole dare un piccolo sostegno per prendere qualcosa. E niente, l'importante è capito. Noi andiamo, io vado avanti per la mia strada, ok? E non mi faccio influenzare da niente. In un mondo in cui si parla solo di negatività. Parliamo anche di positività. Parliamo di cercare di fare emulare il bene. Che è una cosa molto importante, ragazzi. Che è una cosa molto importante. Alla prossima. Attra